Da un paio di secoli, forse qualcosa di più, un numero crescente di uomini e donne va in cerca di adrenalina e natura in montagna. Alcuni le trovano sulle cime più alte del mondo, altri sul Monte Bianco o sulle grandi pareti di roccia delle Dolomiti. Il nostro racconto è dedicato a Lazio, che molti considerano una terra di città, di colline e di spiagge. Ma l'avventura in verticale esiste anche qui. Grazie a tutti. A morre io gli devo tantissimo, gli devo tantissimo perché ho imparato qua. Tutt'ora ci vengo e mi rimetto a contare i metri. Mi facevo mille metri in 47 minuti. Adesso la faccio rivedere. Io e altri amici, come Stefano Pinocchi, Ignazio Tantillo, andiamo in Bari. Ci concentrammo, eravamo ambiziosi, ci interessava fare delle vie difficili, più difficili di quelle che facevano gli altri. Ci interessava molto il grado. Molti vi diranno l'aspetto romantico, la scalata, la bellezza del posto, le dita sulla roccia. In realtà queste per noi a quell'epoca erano tutte cavolate. Cioè a noi interessava il grado, fare la via più difficile dell'altro, essere i primi a fare una via difficile. Quando siamo scesi in quella fase della falesia abbiamo visto dei chiodi e ho cominciato a salire e ho fatto probabilmente la prima libera di Spider-Man. Come è il Giappone? Perché il Giappone, lo Zen, ha la parte fisica che è molto importante. E io ero e sono ancora uno attento alla parte fisica. Questo è un anno importante per l'arrampicata. Infatti ci sono le qualificazioni per Tokyo 2020 dove per la prima volta l'arrampicata comparirà alle Olimpiadi. Io sto cercando di qualificarmi. Ovviamente è molto difficile perché ci sono solo 20 posti in tutto il mondo ma ce la metterò tutta. Io sto cercando di qualificazione per la prima volta l'arrampire. Io sto cercando di qualificazione per la prima volta l'arrampire. Grazie a tutti